Discussione prolungata per quanto riguarda il topo di mano di Bremer durante Verona-Juventus. In questo caso l'arbitro ha spiegato che non è da considerarsi rigore perché il movimento del difensore è congruo con il movimento che stava facendo per appoggiarsi durante la caduta. In più il pallone è stato calciato da una posizione molto ravvicinata dal calciatore del Verona. Quindi proprio da regolamento non è previsto il rigore in questa situazione. Iscriviti al canale per altre news in tempo reale su sport e tanto altro.